Io sono Anna Lisa, quasi 52 anni, vengo dalla provincia di Novara. I problemi erano innanzitutto nella masticazione, nel mangiare e nel rapportarsi. Alla fine era diventato un problema sociale anche, perché avevo una situazione non bella e quindi mi vergognavo della situazione che avevo in bocca. È stato un percorso complicato, perché inizialmente ero molto spaventata. Sono stata seguita in maniera eccellente, sia da manager che da chirurgo, il protesista. Hanno fatto un lavoro, secondo me, veramente come un abito su misura. Cioè, quando ho messo i denti definitivi, è stata proprio la sensazione di una cosa mia, fatta per me, fatta proprio come un abito su misura. Calzava proprio perfettamente. Mi vivrò la vita un po' più serena, un po' più tranquilla, senza problemi. Ma le paure? Superarle poco per volta, man mano che si trovano un piccolo scoglio, affrontarlo appunto comunque con l'assistenza di tutta la clinica, di tutto questo macchinario che c'è in piedi. Comunque si è assistiti veramente in ogni piccolo passo, in ogni piccolo problema. E quindi affrontare la cosa poco per volta, senza pensare al risultato finale, all'obiettivo finale, però poco per volta. Voglio ringraziare Elena, voglio ringraziare il dottor Getiu, il mio chirurgo, e il protesista Vasile. Sono stati veramente eccezionali, un lavoro eccezionale.